Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione global all'interno del nostro account principale Poiché quest'oggi è arrivato il fatidico momento che aspettavo da circa un mese Infatti, o forse due mesi se ci pensiamo, poiché il 2 aprile sono usciti i tickets dei 150 milioni di downloads Come tutti sapete, credo, non ho ricevuto i miei tickets in quella data e non li ho ricevuti nemmeno successivamente Però c'è stata una benedizione, c'è stato qualche miracolo, probabilmente da parte di Priscilla e signori La Bandai mi ha dato finalmente i ticket che mi aspettavano Quindi, se ci portiamo nelle summon, oltre a Legendary Summon, oltre ad Arale, oltre ancora ad Arale, oltre a Vegeta Troviamo ancora la batch dei God Leader con i ticket, signori, bellissima Ho rimpianto tantissimo il fatto di non poter pullare su questa batch e di non potervi portare contenuti Però, signori, finalmente mi è stata data la possibilità, ve l'avevo già preannunciato Quindi abbiamo 69 tickets a disposizione Guardate un pochino, uno in più rispetto al numero 68, che è il numero del mio canale, tra virgolette Quindi, boh, casualità, guardate un po' Però speriamo che questa cosa possa portare fortuna Dai, io vi dico, allora Questa è una batch immensa, davvero molto molto bella Ovviamente ci sono tanti, troppi personaggi in ballo E quindi è molto difficile scularne qualcuno in un certo senso O sculare dei God Leader Però vi dico, mi andrebbe bene qualsiasi God Leader Non punto nessuno in particolare In realtà punterei Buan fra tutti Però comunque vi dico, qualsiasi cosa mi esce da questa batch Va benissimo così, non ci speravo minimamente in queste ticket Però se proprio devo puntare un personaggio Punto questo qui Mi farebbe molto molto piacere uscirmene con questo personaggio Riguardo questa mini serie di video Riguardo, ovviamente, questi tickets Lo so, sono un pochino emozionato, lasciamo stare Credo che questo sarà il primo di due video Quindi ci andremo a fare questo video Andremo a fare circa 6 multisammon E nel video successivo ne andremo a fare le restanti Abbiamo anche la benedizione del sommo e di Priscilla In realtà il sommo è la stessa persona, il sommo e Priscilla Però abbiamo sia la benedizione di Naraku Del sommo Naraku e del sommo Priscilla Ve la faccio anche vedere Allora Eh no, non sono riuscito a farla partire Eccola qui Guardate Credo Porta cura Blasi Credo si stia vedendo Porta cura Blasi, mi raccomando Abbiamo la benedizione del sommo, signori Quindi dopo questa incredibile benedizione Io direi che possiamo subitissimo iniziare Con la primissima Multisammon Vi ricordo Queste qui sono multisammon da 5 E Premessa incredibile che devo fare Ovviamente Questa batch Credo lo si sia già capito È presente soltanto per me E per pochissimi altri Che non avevano ricevuti i ticket E che li hanno ricevuti adesso Voi non avete questa batch Perché se avete già ricevuti i ticket O non li dovevate ricevere Ricevere in realtà è non ricevere Bene Non avete questa batch Semplicissimo Partiamo subito Ah aveva il doppiaggio in inglese Vediamo se ci porta fortuna Dai questo doppiaggio in inglese Quindi Release Rainbow Super Saiyan Vediamo Primo livello Dai che se ci porta fortuna Questo doppiaggio Lo lasciamo Lo lasciamo per sempre No in realtà non proprio Però vediamo Allora Iniziamo subitissimo Con un Vegeta SR Int Va bene Prossima Dai Dai e Priscilla Tra l'altro abbiamo anche toccato il pelo lì Perché si Ho il pelo sacro di Priscilla Quindi Gohan SR AGL Dai Regalaci il sogno Batch the god leader Regalaci il sogno Io vi dico Non mi aspetto tantissimissimo Ve lo ripeto Poiché Post Rosé Ho notato che abbiamo sculato tantissimo Cioè in realtà Su Rosé abbiamo sculato tantissimo Anche in Vegito Blu Però Post Rosé Non c'è stata tutta questa fortuna Abbiamo comunque pullato In Broly Abbiamo fatto dei piccolissimi pull suarale Però non sono andati benissimo Ma comunque Speriamo di rifarci In un certo senso Troviamo Freezer Prima Seconda Come Eh seconda forma Me lo dimentico sempre Quindi Prossima Quante ne abbiamo ancora Vegeta Galick Gun E mi sa che questa prima multisummon È andata un pochino Infatti si È andata un pochino maluccio Questa prima multisummon Ma tutto sommato Me lo aspetto Me lo aspettavo Quindi Prossimissima multisummon Per favore Fa che questa non sia una batch Che mi regala soltanto Baba Points Per favore Gioco Per favore Instant Super Saiyan Se non troviamo nulla da qui Cambiamo subito la voce in giapponese Che forse è meglio Quindi Vediamo Vediamo Secondo livello anche Prima di tutto Troviamo Bojack SR STR Va bene Prossima Goten 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 tech Ne abbiamo Abbagonate di questi qui L'ho portato Jesse a 10 Anche Trunks Il prossimo è Trunks No il prossimo è Krillin Krillin AGL Questo qui No Krillin fisico Va benissimo Prossima Dai No mi sa che qui devo Allora Devo ripescare Di nuovo la foto che avevo di Pri Che qui serve tantissimo Oltre al pelo Eccola qui Toccata di pelo Ancora una volta Credo si sta vedendo Sto facendo il sommorito Dai Dai Avevo pure il dito sacro Non ci credo Troviamo Freezer Terza forma Va benissimo Mi rimane Allora Dove è la voce Cambiamo subito la voce In giapponese Subitissimo Proprio Andiamoci anche a fare Una sorta di rito propiziatorio Ci andiamo a fare Una multi summon Free end points Che C'era questo trucchetto Una volta Proviamo a vedere un po' Dobbiamo provarle tutte Dobbiamo provarle davvero tutte Dai Sti ticket Non devono deludermi Per favore Non potete deludermi Mi avete fatto penare tantissimo Ci speravo in questi ticket E Non possiamo uscircene malissimo Dai Almeno qualcosina Voglio trovarla Qualcosina Magari un god leader Per i dupe Quindi Vegito Magari un'altra copia Di gothens Che potrebbe servirmi Magari Gianemba Magari Buan Magari un god leader Che non abbiamo Qualcosina Una navicella Però Super saiyan Va bene che No 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 Ieri si possono trovare Da qui Stavo per dire Che non si possono trovare R Invece no Si possono trovare Come Infatti E troviamo Signori Attenzione Perché troviamo Il primissimo Ultimate Gohan Del mio account Questa è una cosa Assurda Ci volevano i ticket Per farci trovare Il primissimo Gohan supremo Vi dico Tra virgolette Sono contento Per aver trovato Il primissimo Ultimate Gohan Ma allo stesso tempo Questo personaggio Mi serve A pochissimo Poco 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 E È un personaggio Che Non vale Tantissimissimo Vabbè Teniamocelo Comunque Comunque un SSR Quindi Prossima Dammi un back to back Questo Guldo qual è Guldo tech No Quello è l'SSR Vabbè Lasciamo stare Va bene Troviamo Iacon Perfetto Questa è la terza Prossima Quarta Barter Non mi interessi minimamente Ultima Pan Quindi Terza multisummon Per il momento Gohan Int SSR Che me lo aspettavo Me lo aspettavo Ve lo dico Questo qui Davvero me lo aspettavo Secondo me è uno dei personaggi Che ha maggior rating In questa batch Non so per quale motivo Prossima Dai Dai Batch E' ancora una navicella Vabbè che con una navicella Abbiamo trovato Ultimate Gohan Dai Primo livello Secondo livello Nulla Però Va bene Li abbiamo riuniti Abbiamo trovato Goten Troviamo Trunks Prossima Intanto stiamo registrando Sì stiamo registrando Perfetto Stiamo registrando Speriamo di non perdere La registrazione Speriamo di non perdere Andremo Nel numero 18 Fisica R Prossima Dai che sono emozionato Non Ok lui è praticamente Un Goku Super Saiyan God Quindi mi va bene Vorrei trovare tutti gli SS Tutti gli SR Come lui in realtà Dai Dodoria Non voglio Dodoria Dai Videl Finite qui Finite Stiamo 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 sfigando Vi dico Stiamo sfigando Stiamo sfigando Tanto Stiamo sfigando Tanto Ho visto Delle Salmon Pazzesche Da questa Batch Delle Salmon Pazzesche Però Stiamo sfigando Dai Non è possibile Perfavori Non possiamo uscircene Soltanto con Ultimate Gohan Int Dai Batch Videl Dai Stiamo trovando Milioni di Videl Yamcha Prossima Dai E che sculamo Anche l'altra volta Goku Super Saiyan 3 GL Che vabbè E Golden Freezer Signori Dai Ticket Golden Freezer Con 8 Ticket Con 8 Ticket 2 SSR E qui ne abbiamo spesi Boh Non ci ho fatto nemmeno caso A quanti ne abbiamo spesi E abbiamo trovato Soltanto Ultimate Gohan Int Dai Vegeta Super Saiyan Tech SR Cos'è sta sfiga Cos'è sta sfiga Non possiamo sfigare così Dai Mi sto abbatt... Dimmi No Non ci credo Ma nemmeno By Guys Non ci credo Io inizio a sentirmi male Qui Vabbè Naturon Ma possibile No regà Questo è assurdo No Questo è assurdo Io non ci credo Cioè Non possiamo uscircene Con nulla cosmico Da questa Ultimissima Multisammon Ultimissima multisammon Di giornata Poi ci sarà un altro episodio Ma dubito che possa andare meglio Di come sta andando Eh vi dico Super Saiyan Cioè prima signori Quando ho visto che Goku Non si è trasformato in Super Saiyan Ho detto Ok Bye Guys Oh Finalmente Dai Dai Concludiamo in bellezza Mi ha sentito No Gohan Cioè Gohan del futuro Ma va bene Ma non mi serve Un altro Gohan Ma non mi serve a nulla Ok Fantastico Bellissima Un artwork stupendo Mi fa un piacere immenso Averlo pullato In realtà Mi avrebbe fatto piacere Più tanto 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 tempo fa Quando ci capivo nulla Del gioco Però signori Dai Dammi un back to back buono Dammi un back to back buono Per favore Dammi un altro SSR Dammi uno buono Dammi un god Devi darmi un god adesso Non ci credo Io non ci voglio mai credere Non possiamo uscircene così Ace Dai Rage Questo è rage Giusto Oceanus Non mi serve più ormai È inutile che mi esci Finite Finite Signori Non ci credo Ce ne usciamo Da questo primissimo appuntamento Male Male Ce ne usciamo male Non ci voglio mai credere Ce ne usciamo Con due soli SSR Ultimate Gohan In Gohan del futuro Cioè Da che non trovavo Nemmeno un Gohan Ne abbiamo trovati due In un solo video pool Ma signori No Non sono minimamente soddisfatto Quindi facciamo così Io con questa schermata Vabbè Con questa schermata anche Vi do appuntamento Subitissimo Al prossimo video pool Che per me sarà A brevissimissimo Ma che per voi sarà Credo Fra un 3-4 giorni Quindi dobbiamo assolutamente Risollevarci Questo primo video Ve l'ho detto Postro Se stiamo sfigando Stiamo sfigando Il mondo Quindi per favore Cerchiamo di rialzarci Quindi signori Vi chiedo Assolutamente Un like Per il supporto Cerchiamo Assolutamente Di infondere Tutta l'energia positiva Per il prossimo video pool Quindi lasciate un like Fatemi sapere Con un commento Cosa ne pensate Di tutto Di tutta questa sfiga Perché sfiga Credetemi Quindi iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video E quindi vi do appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video In un prossimo video Grazie.